prega santa barbara e riceverai un regalo da lei 4 dicembre ricorrenza di santa barbara nel nome del padre del figlio dello spirito santo amen preghiera a santa barbara illustre vergine e martire santa barbara padrona ed avvocata nostra prescelta dei nostri padri per la custodia di questa devota terra de gradite il culto che abbiamo per voi e i voti che ogni anno vi offriamo vi preghiamo di ottenerci la perseveranza nelle buone opere ed una viva fede affinché con ferma speranza si possa aspirare al cielo per godervi insieme con gli angeli e i santi nello splendore dell'eterna carità preghiera a santa barbara o gloriosa vergine di nicodemia santa barbara che malgrado la prigionia severissima inflitta vi dal vostro stesso padre per tema che diveniste cristiana trovaste modo di farvi istruire in questa religione farvi battezzare fate che apprezziamo il grandono della fede conservando la vive ed operosa malgrado tutti gli attacchi del mondo e del demonio gloria preghiera per ottenere una buona morte signore che avete letto santa barbara per la consolazione dei viventi e dei moribondi accordateci per la sua intercessione di vivere sempre nel vostro divino amore e di mettere tutta la nostra speranza nei meriti della dolorosissima passione del vostro figlio affinché la morte del peccato mai non ci accolga ma che muniti dei santi sacramenti della penitenza dell'eucharistia e dell'estrema unzione possiamo incamminarci senza timore nella gloria eterna noi ve ne supplichiamo per il medesimo gesù cristo nostro signore cos'essia preghiera a santa barbara patrona dei vigili del fuoco il dio che illumini i cieli e colmi gli abissi arda nei nostri petti perpetua la fiamma del sacrificio fa più ardente della fiamma il sangue che ci scorre nelle vene vermiglio come un canto di vittoria quando la sirena urla per le vie della città ascolta il palpito dei nostri cuori votati alla rinuncia quando a gara con le acule verso di te saliamo ci sorrega la tua mano piegata quando l'incendio irresistibile avvampa brucia il male che sannida nelle case degli uomini non la ricchezza che accresce la potenza della patria signori siamo i portatori della tua croce e il rischio è il nostro pane quotidiano un giorno senza rischio e non vissuto poiché per noi credenti la morte è vita e luce nel terrore dei crolli nel furore delle acque nell'inferno dei roghi la nostra vita è fuoco la nostra fede è dio per santa barba martire così sia nel nome del padre del figlio dello spirito santo ame grazie grazie